Il Gasher Brunquarto, la maestosa montagna che hanno scelto come meta. Come un gigantesco trapezio di calcare, la parete sud-ovest del G4, alta 2500 metri, riluce in lontananza ed in cute sgomento. Spaventosamente vertiginoso, il G4 sembra veramente una montagna impossibile. Il 2 agosto le cordate Bonatti e Mauri, Gobbi e De Francesco, risalgono con corde materiali verso il campo quinto. Ben mille metri di corda di Lilion sono stati necessari per attrezzare i punti più difficili della cresta. Ciascuno porta un carico di oltre 15 chili, che a questa quota sembrano tonnellate. Il salire su questi passaggi difficili diventa un martirio. Ad ogni passaggio impegnativo viene dato un nome, perché rimanga più vivo nella memoria di chi l'ha superato. Dal tratto delle cornici, alla torre grigia, dal cammino della pena alla torre nera, poi su, verso le rocce bianche. E dalle rocce bianche, alla conca lucente sotto la cima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.